Salve gente, qui è il vostro Manu e bentornati amici miei, oggi ci troviamo qui sul terzo episodio di Far Cry 4 Ragazzuoli, nello scorso episodio, dopo tanto casino, siamo riusciti a sopravvivere e ad affrontare un bel po' di nemici Una volta fatto questo, stiamo salendo le montagne alla ricerca di quella torre Quindi dobbiamo arrivare lì, lì è il nostro obiettivo E direi di andare, ma prima di fare questo, raga, mi raccomando, lasciate un bel like per supportare questa serie Se non ci sono ancora iscritti, iscrivetevi al canale, raga, non vi costa nulla E ringrazio di cuore a tutti coloro che lo fanno Allora, prendiamo tutto, perfetto, munizione, munizione, salve Sì Ah Mentre poco si combatte Azioni C'è gente? E salve Sono bravissimo con la mira, ragazzi, non vi preoccupate Voi dovete stare, dovete fare conto su di me, tranquilli Ok, ricarica Mamma mia, c'è un bel po' di gente Ragazzi, spero che quelli che stanno là sotto stanno facendo qualcosa perché Io ho un po' bisogno Non so, sai com'è Allora, c'ho anche le granate Utilizziamole Mamma mia, ha fatto una bruttissima fine Oh, no a me Dove stanno questi stronzi? Eh, mi vedono Ah, sono là sotto Aia Venite, merda Ragazzi, però là sotto voi potreste fare qualcosa? Ok, colpo la testa Anche lui colpo la testa Aia Addirittura uno shield Che mi sta parando Fermi Come lancio una granata Anch'io lancio una granata Vaffanculo Cazzo granata Ebbè, è quello che direi anch'io Ok, anche lui è fatto fuori Anche questo è fatto fuori Ma dove stanno? Ma quanti ne stanno? C'è una valanga? What? Porca pupazza Ripara, ripara, ripara Mamma mia Il pad mi sta Oh Merda Mamma mia, regà Proprio è arrivata una valanga gigantesca su di noi Ma siamo vivi E meno Hai la pellaggia dura, fratello È una cosa positiva, no? Il prologo ho completato, ok Beh Può esserci solo un tarumma per il volto Ok, più piano Affascinati Per scoprire Ok Filmato, attenzione Abbiamo visto l'elicottero di Pagan Non si spinge mai così a sud E volevo capire perché È andata bene Eravamo in zona Quando ci ha scritto Darpan Beh Eccoci qua Benvenuto a Banapur Sede del sentiero d'oro Lui chi è? Dov'è Darpan? Non ce l'ha fatta Lui è a Jaigal Ah, il bro, quanto pare Fammi capire Darpan è morto E gli hai portato questo qui? Io non c'entro con questa storia Sto solo cercando la Xmana Siamo nel bel mezzo di una guerra Non abbiamo tempo per i turisti Cosa volevi che facessi? Che lo lasciassi lì Ma affanculo Mi spiace fratello Amita è un po' permaloso Non devo occupare Sembra la mia ex La Xmana Dal suono si direbbe un tempio Un santuario Ma se è così È al nord Il nord è territorio nemico E non ci possiamo andare Per ora Rifletti un po' Torna quando sei pronto Va bene D'accordo E allora signori Partiamo subito Banapur 2.178 metri Penso sia l'altezza del posto Non voglio avere niente a che fare Con Pagan Min e i suoi soldati Voglio essere lasciato in pace Bene Ok ciao Ti saluto Per il sentiero Per il sentiero Chissà cos'è Allora un attimo Signori Volevo dare una piccola esplorata Cos'è questo? E per un modo Interagisci Vediamo cos'è Justo per dare un occhio Oh cazzo E porteranno Cosa gli è successo? È caduto Pagan in onda lettere Ci tocca sopportare Questa roba Non se ne può più L'ho mandato sulla vecchia torre Su ai trasmettitori Per cercare di deviare il segnale Solo che Io lo so fare Così mi piace fratello Non c'è nessuno di guardia Ma è una scalata difficile Promettimi di non cadere Promesso Sicuro Va bene Non ti preoccupare Fra Cercherò di non morire Macchina della propaganda Cos'è qua? Che cose sono queste Signori? Recupera Recupera Che sarà Sicuramente roba Utile Allora Bene 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 Ma che Che devo fare? Ti pare c'è Roba Un bel po' Di roba Allora La mappa Si apre così Giusto? Va bene Va bene Va bene Dai ci siamo Ci siamo Facciamo una cosa Entra Ah Questo posso guidare Sì E posso analizzare Ah posso anche sparare addirittura Rega Attenzione Però aspetta Io volevo uscire Perché a quanto pare Mi dice che Ma cosa sono Questi cosi d'oro? La mappa Signori un secondo Devo solo capire Allora Vediamo Cos'è Diario di Mohan Blah 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 Questo cos'è? Scerpa Posizione armata Va bene Rega Fa culo E Facciamo una cosa Andiamo qua Sali C'è un aliante Ragazzi Fortnite Oh cazzo Mamma mia Però è una figata A quanto pare Devo arrivare Là sotto Credo sia Utilissimo Andiamo così Tranquillamente Nel chill Viraglia E Perché Mi è venuto Per uscire No no Quale uscire? Oh 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 Stiamo precipitando Rega Stiamo precipitando Merda Merda Sono spaccato il culo Dove è finito? Tutto bene Non vi preoccupate Magari curiamoci anche Sei contento? Allora Che cos'è questa? Uscirai dalla zona della missione Torna O la fallirai Eh sì Però un attimo Io volevo prendere Ma fa culo Va bene Ehm Se devo proprio andare di qua Ehm Ma dimmi un po' Forse devo salire qui Dove ci sono queste bandiere? Credo di sì Bene Saliamo allora Allora rega Vediamo un po' la situazione Vediamo cosa dobbiamo fare Dove pare Devo salire qui su Qui mi dì Mi indica Che ci sono delle piante Che posso raccogliere Adesso queste Non le avevo viste Vabbè Ho lo zaino pieno Ok Dovrei vendermi un po' di roba Assolutamente sì I medici Te lo prendo volentieri Salvele chi è Prendi il denaro Noi prendiamo tutto signore Perché siamo poveri Abbiamo Cosa? Siamo pieni? What? Dobbiamo comprare qualcosa Allora Di tutti i costi Come si fa? Non posso salire di qua Ah ma c'è la corda Sono un coglione Accoglie la rampina E dov'è? Ah qua è Ragazzi Un po' coglione Chiedo scusa signori Chiedo scusa Ok ci siamo Ci siamo Bene E ora cosa dobbiamo fare? Ah rampina Utilizza Eccolo vai Eccolo vai Che figo Mamma mia Che figato Ok Allora Devo arrivare a quella torre Per arrivare a quella torre Devo fare un po' di roba Anche qua Rampino Stacca 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 Mamma mia Che precisione Ah cazzo Posso portare solo un'arma Merda Merda E non so Siamo calmo Siamo calmi Salta Mamma mia Mi sento tardo Una rega Porca vacca Mamma mia Nathan Drake Paracroft 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 Tutto Ci siamo Ci siamo Ma sembra che qua sopra ci siano dei problemi anche O per lo meno Quello è un nido di api Abbatti le api No ragazzi Ragazzi voi mi avreste dovuto aiutare Mi hanno abbattuto il tipo Cura di curati subito Merda Maledette api Chi è che mi sta attaccando Ma sbaglio Si è buttato Pezzo di merda Ok raga Cominciano ad esserci problemi Abbiamo tutto Funzioni cose Siamo anche pieni però Devo cominciare a sistemare un po' L'inventario Ok Allora cosa abbiamo qui Le torri Sali in cima La torri Per dirottare Ah Praticamente come in ogni gioco Le torri servono Per colorare le mappe Eccetera eccetera Per lo più Non solo le torri I punti alti Per me ci sta Attenzione Ma cos'è una radio Sì sembra essere qua sopra Sali Ok Ok allora Sembra che la via sia libera Signori mi è piaciuto Mi è piaciuto un botto Per utilizzare le api Leggi Avviso di sicurezza Avviso di sicurezza Quindi attenzione Quindi attenzione Ok Mamma mia Quanto sono alte Ste torri Facciamo un'altra cosa Dove devo andare Uh Nice Attenzione Saliamo 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 Sessa identica cosa Qui giusto Bene Che manca Pochissimo Siamo praticamente arrivati Quindi facendo questo Noi Non solo qui Vedo una cesta Prendiamo solo del denaro Questo cos'è Solo del denaro Prendiamo Non posso craftarmi nulla Vero Eh no Mi serve un bel po' Fare un bel po' di mob Allora Perfetto Questo sono io Con la sveglia Quando devo andare a scuola Torre liberata Ne abbiamo una di 17 Allora abbiamo la fattoria Di Brabkar Abbiamo anche La casa del vecchio Isha Mamma mia C'è un po' di confusione lì E abbiamo anche Il rifugio di Kira Ok Altri Questi tre luoghi scoperti Abbiamo dell'abilità Abbiamo sbloccato due punti abilità La tigre e l'elefante Allora Vediamo cosa abbiamo qui Ottiene un'unitilità salute aggiuntiva Per un totale di tre Uh cazzo Sì Prendiamola Mentre questa parte Peso piuma No Sempre uno Sempre uno Le unità di salute Paziamente esaurite Si rigenerano molto più rapidamente Potrebbe essere utile Morte dal cielo Salta e cadi su un nemico Sotto di te Per abbatterlo Se possibilità Battimento a cadena Poi con Battimento con alta Addirittura Sotto uno dei due nemici Stabilì E beh Una superficie Per abbatte Una Ah è vero Ah no ma ne ho una Lo posso prendere Non lo posso prendere Perché non lo posso prendere Necessaria Ah Devo prima avere questa Dov'è Non lo so Va bene Comunque non importa Non posso prendermi Qualcos'altro allora Ah aspetta Questi si Puoi mirare E sparare Con le armi secondarie Mentre sposti un corpo Mentre sposti un corpo Ah ok I veicoli resistono I più danni Prima di lo avere E essere riparati Ma regà Io praticamente Dovrei sbrigare Meno danni Armi a fuoco Dalle esplosioni Oh e E raccogliere Il doppio delle foglie Da ogni pianta Ma si vaffanculo Prendiamo più foglie Let's go Vabbè regà E ho fatto un po' a cazzo Anche perché Non vorrei Annoiarvi Usa il cavo E facendo questo Signori Noi torneremo A tutta velocità Qua sotto Nice Che succede? Alve aspetta Cos'è qua? Sembra Sì sì Salve Accettiamo Bindi Sei tu? Qui non c'è nessuno Con quel nome Merda È in ritardo Chi parla? Ajai Galla Tu chi sei? Ajai Galla Un momento Ajai Certo Lo so chi sei Sono Gopal Sto col sentiero d'oro Senti Ci serve il tuo aiuto La mia squadra Si occupa dei rifornimenti Per la causa Ma sono in difficoltà L'armata reale Sta rifornendo le truppe Nella zona Ti invio le coordinate Degli sganci Recupera i pacchi Prima che finiscano Nelle mani Dell'armata reale Cosa c'è l'Iva? Rifornimenti Cose che ci servono Ok Recuperò la roba E vediamo di dagli una mano Signori Vaffanculo Andiamo di qua Allora mi ha mandato Tipo le coordinate qui Ok E ma dove la trovo io Sta roba? Non mi sembra di vedere Nulla signori Se non piante E Cos'è questo? Ma uno l'abbiamo preso Ah ne manca uno Aspetta Prendiamo un po' di denaro No? Dove sta l'altro? No Qui non può essere E te Dove cazzo è? Forse di qua esatto Ok bene Una volta che abbiamo preso anche questo Ritorniamo subito qua Perché dobbiamo andare al secondo posto Quindi entriamo Allora non si guida benissimo Questo aggeggio Però Proveremo Ok stavo dicendo Proveremo a fare attenzione Ok tra poco mi viene per vomitare Magari lo utilizzeremo di meno Comunque Sembra una di quelle queste secondarie Oh ma c'è anche gente che fa qui le scampagnate Allora qui mi indica un sentiero Quindi io vado di qua Bene Vai let's go E sto cavolo Regà Merda Va bene Ci ho provato Ci ho provato Dai 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 che ce la fai ragazzo Bene signori Va bene Direi anche di abbandonare il veicolo qua E mi è sembrato di aver visto questa pianta Non puoi Vabbè vaffanculo Va bene Sbrighiamoci Allora saliamo qua sopra Quanto pare sembra che ci sia Mamma mia E' lupo? Ma che vuol dire perché ho lo zaino pieno E non mi posso prendere queste regà Ma qua c'è questo Ok li ho presi tutti Ok riporta rapidamente Corri a portarli a queste coordinate Ti ringrazio Va bene Ma regà non posso prendere niente Quindi a sto punto Vaffanculo Devo trovare ancora Un modo Un minuto e quindici Merda Non si scherza Mi dice che devo andare di qua Salve Ma c'è gente Che cammina nei boschi Frena 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 Bene Ok Non è stato neanche tanto difficile Arriviamo qua Eccomi con i rifornimenti Grazie agile Finiranno nelle mani giuste Lasciali davanti alla porta Non posso entrare Stiamo preparando un'operazione top secret Spiacente Gli ordini sono ordini Non può entrare nessuno Va bene Successo E ho fatto questo Allora un attimo Io volevo vedere una cosa Prima di salutarci Andiamo nella mappa E volevo un attimo Ok qui possiamo vedere Tutto Tutti gli animali Che possiamo luttare Qui abbiamo Il manifesto di ripropaganda Non so se sti cosi erano utili Io non li ho raccolti Non lo so Fatto stato Dobbiamo ritornare qui A Mita Ah per parlare con Mita Beh ci C'è una cosa signori Ci dibecchiamo direttamente Nel prossimo episodio Lì al villaggio Per continuare Io vi saluto Spero il video vi sia piaciuto Mi raccomando su con un bel like E se non ci siete iscrivetevi al canale E noi ci ribecchiamo Direttamente alla prossima Per la vostra mano di quartiere Come al solito è tutto Bella